di Marsiglia, che era la ballerina della Poli Beresina, era una Blue Bear, era un po' più alto, e poi dopo quel tempo se si calde. No, 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 è vero, voi scherzatevi tutti i giovani, ma vi accorderete che dopo qualche anno, dai 50 in su, comincerete a calare. Avete mai visto un vecchio alto? Mai. Tutti i vecchi sono tutti piccolini, ma una volta ero male, anche lui. Non sto scherzando, lei comunque ha 71 anni, intanto per dirvi subito la sua voglia di vivere, la sua forma che non è perfetta adesso. Sì, ti letti in più, ma anche dici che essere più perfetta. Poche chiacchiere, molti, molti fatti. Allora, fai avvicinare quei ragazzi qui, arrivare almeno, avvicinatevi perché non ho l'impianto potentissimo e non ascoltate bene la musica e voglio farvi ascoltare qualcosa di veramente speciale tra poco. Venite più vicini, dai. Le donne specialmente, i maschi anche se vanno a fare un giro, a me canto non compro niente, sono sempre le perle che compro. Venite più vicini, dai un po', un po' più vicini, dai. Così facciamo, la musica si espande meglio anche perché sono onde sonore, onde sonore, quando hanno un ciclo si sentono molto meglio. Venite più vicini voi, tanto non si paga niente, venite più vicini. No, ma non ve ne chiedo neanche i soldi, io non chiedo soldi, venite avanti. Venite, dai, loro sono russi, banesi, russi però. Venite vicini. Dovrei imparare a parlare qualche lingua strana perché ormai a Bologna, i bolognesi non esistono più. I bolognesi sono stati tutti in Russia, stati tutti in Romania, stanno bene, stanno da Dio. È vero? Vi ricordo che io sono anche candidato al sindaco perché quest'anno non mi batte nessuno. Sappiatelo che sarò sindaco di Bologna. Quindi da questo è un programma. Di Beppe Maniglia. Ok amici, ascoltiamo un brano tratto da un cd che si chiama Apache. Un cd favoloso. Un cd in vinile come tutti quelli di Beppe Maniglia, conosciuto in tutto il mondo Beppe Maniglia, non solo qui. Sono sull'enciclopedia mondiale, quindi non è che ci andate in giro in aereo, cosa che non credo. Quando leggete le riviste che danno negli aerei, c'è scritto Beppe Maniglia, parla di Bologna e Beppe Maniglia, non parla di Lucio Dallo, di Morandi, di quella gente, parla solo di Beppe Maniglia. È questo. È cd favoloso, in vinile, unico. La coreografia sembrano 45 giri. L'ha fatto uno dei più grandi grafici mondiali, dovrei dire italiano perché è italiano, ma mondiale nel senso che è bravissimo. È veramente favoloso questo di Bologna. L'ho fatto io. Sono io grafico. Ma io so fare tutto, non me la capo da per tutto, non ho bisogno di imparare da nessuno. Ok. Perché se del resto se non mi faccio i complimenti da solo, ve le fate voi i complimenti. Non è venuto uno a dire Beppe, sento che Beppe Gino ha fatto? Uno lo pensa, poi con una punta di rabbia dice, ma siamo fatti così, l'uomo è nato per essere un po' in più di loro. Ma un invidio è così, no? Non capisco. Uno non vuole ammettere. Va bene. Cominciamo con un brano che si chiama Shadow. Shadow è un brano di Beppe Maniglia, come tutti gli altri, e dopo mi farò ascoltare l'ultima versione della base del 2010. Oh ma voi, mamma.. No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.